Sarà l'ingegner Vincenzo Macello, 54 anni di origini liguri, a prendere in mano il dossier Alta Velocità Roma-Pescara in qualità di commissario straordinario per il raddoppio delle linee ferroviarie. Macello, nominato oggi in via ufficiale, attualmente il responsabile investimenti di RFI, ma è anche tra i nove imputati per i quali la Procura di Milano chiede il processo per il disastro ferroviario di Pioltello, quando Macello svolgeva il ruolo di direttore territoriale di RFI Lombardia. Dovrà essere lui dunque a modernizzare una tratta strategica per le regioni Abruzzo e Lazio, ma anche per la direttrice Tirreno-Adriatica per passeggeri e merci. Ora che si passa la fase operativa occorre stanziare tutte le risorse utilizzando tutti gli strumenti disponibili, ha dichiarato il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio a prendere. Ma il progetto da quasi 7 miliardi di euro si trova nel bel mezzo di una contesa tutta interna alla provincia dell'Aquila, tra Marsica e capoluogo. Ieri l'adunanza dei sindaci marsicani voluta dal primo cittadino di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti della Valle Peligna, delle associazioni di categoria e dei sindacati, in maniera compatta ha respinto l'idea partorita dal Consiglio Comunale Straordinario dell'Aquila di qualche giorno fa di rimettere in discussione il progetto per includere anche il capoluogo di regione all'interno del discorso alta velocità Roma-Pescara. Io penso che progetti alternativi non ci saranno, l'unico progetto alternativo è quello che non si faccia niente. Per l'Abruzzo, per il Cerritaria non possiamo perdere assolutamente questa occasione. Noi dobbiamo rivendicare in maniera forte la presenza di questo tracciato, della velocizzazione di questo tracciato, ma anche dell'alta capacità, quindi legata al trasporto merci, perché solo attraverso infrastrutture logistiche come questa noi riusciremo a rientrare nei circuiti internazionali. A marzo 2020 un tavolo istituzionale con la Regione Lazio, Regione Abruzzo, Ministero dei Trasporti ed RFI ha generato il progetto condiviso da tutte le istituzioni interessate, ricorda in una nota il governatore Marsilio, che auspica, anche grazie alla spinta di imprese, associazioni e sindacati, che da tutta la delegazione parlamentare abruzzese venga la spinta affinché i fondi siano stanziati e l'opera realizzata nella sua interezza, compreso il potenziamento cargo. Ma qui c'è tutta la questione dell'inclusione dell'Abruzzo nelle reti TNT da discutere con Bruxelles.